Ciao ragazze, benvenuti nel nuovo video, spacchettiamo i calendari dell'avvento giorno 6 Allora, senza tranti preamboli, oggi almeno vedete quali sciati capelli li ho appena fatti quindi sono strassoddisfatta e tra l'altro ho usato un campioncino, due campioncini in realtà non so se anche voi usate uno, due, cioè mi danno i campioncini degli sciampi tipo usane poco che ne basta uno e io vedete con i capelli super corti, cioè corti, non sono lunghi però ne ho dovuti usare due alle bacche di goji, una roba supreme, molto molto buona perché la piega è venuta molto bene, devo dire la verità e poi ho usato la mia classica maschera, quella di Fito, Ioba, quella ai piedi capelli ultra secchi idratante ho fatto un trucco che vedete benissimo con la palette, quella verde di Jeffree Star che non mi ricordo come si chiama, Blood Money forse, bellissima ho usato tre tipi di verdi, pigmentatissimi, non l'avevo mai usato, anche un verdone scuro e invece sulle labbra ho messo uno dei tre rossettini, non posso dirvi quale perché ce l'ho di là è di quei tre rossettini che vi dicevo della collezione Natalizia, questo bellissimo nude mi piace, ci sta oggi non posso lamentarmi dei capelli per questo momento almeno, quindi non sentirete lamentere, giuro ho usato poi questo vestitino che in realtà sto preparando il video di svuoto l'armadio era uno di quelli che dovevano essere imbarcati nello svuoto armadio poi ho detto dai lo provo che magari mi va perché l'avevo acquistato tipo l'anno scorso ancora etichettato della Ozone, ve lo faccio vedere perché sembra una blusa con un abito in realtà è tutto in uno, l'ho impreziosito con questa cintura vintage di Ferreco acquistato al baule, cioè in realtà me l'ha regalata la proprietaria perché ero lì tipo che le sbavavo tantissimo, cioè mi piaceva, lei me l'ha voluta regalare, guardate che carino, sembrano due pezzi ma è uno, gondellina midi verde, molto natalizio, la cosa che mi piace è il pizzo e ha questo collo alto verde ripreso e le maniche così tutte di pizzo, molto carino sotto una semplice decolte di Zara nera in ecopelle, questa qui, una pump nera di Zara e le calze, un altro paio di calze con le stelle, queste sono un po' più grandi, le prime che ho trovato nella stanza degli orrori, o più callant con le stelle di quelli che pensavo allora, partiamo da Clinique, oggi meno male che è uscito il sole, giorno penso 6, siamo a 6 oggi sì, e poi abbiamo il giorno 6 del calendario della Clarence, ok, che è tutto sminuito, devo stare attenta a dirle parolacce giorno 6, non c'è, allora qua, ok, apriamolo velocemente e poi devo fare un altro video di shopping svuoto l'armadio, che vabbè, poi vedrete tra poco, tra poco, tra un bel po' in realtà allora, giorno 6 di Clarence, cosa abbiamo? SOS Primer 00, Boost Eclat è praticamente un primer, allora con certe palette, tipo queste qua di Jeffree Star in primer, non serve non l'ho mai usato in tutta la mia vita a volte invece l'avevo usato comunque è una base correttiva, mancanza di luminosità quindi comunque è una base, colore 00 Universal Light quindi ha messo un colore universale ed è un primer lo proveremo e vedremo se funziona questo è il pack, carino, bianco e oro questo è quello che c'era di Clarence sono curiosa di provarlo, ma proveremo magari anche la differenza su come si dice, sugli ombretti a vedere se danno ancora più pigmentazione proverò Clarence, giorno 6, una piccola scatolina contenente vediamo questa volta abbiamo un blush blush fard un bellissimo blush rosato numero? non si sa non c'è il numero vabbè, comunque è questo blush molto molto rosato che ovviamente non potrò provare io li uso come ombretti perché sulla pelle senza fondotinta purtroppo il blush non rende cioè o meglio, si vede leggermente e poi svanisce quindi bisognerebbe avere una base, un fondotinta eccetera eccetera, comunque lo proverò sicuramente come ombretto vedremo se è pigmentato adesso non mi pare il caso visto che non c'è assolutamente tempo ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto vi preparo subito lo svuota lo svuota armadio ah, sopra ovviamente mi fate vedere la mia pelliccia verde che non penso di utilizzare tutto inverno perché ho 100.000 pellicce però ci stava bene oggi ho detto ma si dai dopo averla messa col pigiama diamogli un tocco di diamogli un tocco di classe perché sennò sembra che vado in giro in pigiama e non è il caso cioè è vero ma dovevo insomma valorizzarmi un pochino meglio ci vediamo nel prossimo video un bacione cioè tra poco ciao ciao